io ho provato a diciamo riassumere un po' in questo titolo quali sono le variabili quindi toccheremo diversi temi ecco perché dicevo magari salto qualcosa o lo do per scontato perché i contenuti sono abbastanza numerosi diciamo così i temi la premessa è secondo me d'obbligo in realtà è anche leggermente scorretta perché per fare bene una regata vincere poi diciamo una variabile mix di variabili bisogna cercare di fare le cose più semplici possibili adesso parlavamo no della della coppa america delle possibili rotture in realtà semplificare tutto ciò che è possibile semplificare sarebbe la cosa ideale credo che in acqua come anche nella vita non esistono cose semplici ecco perché la fase la frase è un po scorretta se vogliamo ma esistono le cose che so fare e le cose che non so fare spesso dire ad una persona quella cosa lì è semplice magari è semplice per noi ma non è detto che lo sia anche per gli interlocutori quindi diciamo esistono le cose che so fare che sono quelle che andrebbero preparate in allenamento e quindi anche in questa fase dove siamo stasera quindi una fase teorica e poi esistono le altre cose quelle che in regata dovremmo cercare di limitare quindi i nostri punti deboli che conviene saperli diciamo così conviene conoscerli e quindi insomma su questo diciamo farei comincerei a fare la prima primissima riflessione sulle cose che so fare e le cose che invece per me rimangono un pochino più complesse su quelle che so fare le devo mettere in mostra durante la competizione quelle che non so fare le devo un po' nascondere e me le devo tenere per quando per quando mi alleno allora noi stasera parleremo di un po' di tutte questa di questa roba quindi strategia e tattica di regata qualche nota sul pre partenza parleremo velocemente di bolina e della poppa e poi diciamo dei giri di boa dentro tutto questo un aspetto che magari approfondiremo anche la volta prossima però diciamo che in tutta questa roba sia la velocità della nostra imbarcazione sia uno di quei settori di quei versanti che sono spesso molto sottovalutati e quindi la comunicazione a bordo sono due elementi che fanno da collante in tutta in tutti questi punti che voi che voi vedete allora è un po' uso comune chiamare tattica di regata tutto quello che io faccio tutte le decisioni che prendo dentro 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 una regata in realtà c'è una piccola differenza e credo che sia valga la pena approfondirla non tanto perché noi saremo soggetti ad un'interrogazione cioè non è che ci verrà chiesto che cos'è la tattica che cos'è la strategia ma perché ci dà secondo me la dimensione anche delle delle attività da fare perché ci sono delle attività che potremmo definirle da fare prima e ci sono delle attività da fare durante una regata noi con la qualche volta col termine tattica mischiamo un po tutto in realtà sono un po' differenti nel senso che la strategia prevede una pianificazione cioè è una cosa che per quanto non perfetta andrebbe fatta prima la tattica è spesso invece influenzata dal momento o dalla circostanza specifica quindi la strategia è un po il mio piano di azione mentre invece la tattica è tutto quello che devo fare nel momento perché la mia azione sia un po diciamo sia un po coordinata e vada a buon fine prima che cosa vuol dire quando diciamo prima della regata è tutto quello che avviene sostanzialmente prima dei cinque minuti quindi prima del segnale di avviso è un po diciamo quella che che è la condotta di gara più adatta combiere un percorso senza avversari nel minor tempo possibile quale sarebbe la miglior partenza quale sarebbe il miglior bordeggio quale sarebbe il miglior posto per partire e quindi diciamo è un po un mix di previsioni che posso fare anche a terra e un po di osservazioni quindi di analisi concrete di quello che io ho di fronte quindi previsione e poi vento e quindi giornata che ho in mente io diciamo un po velocemente a parte che le definizioni possono essere molte molteplici si possono trovare tante sfumature ma io per semplicità diciamo immagino quattro tipologia di giornate sostanzialmente dove io cerco di non dico battezzarle però di capire che tipo di giornata o di fronte cioè un'intensità stabile e una direzione variabile sempre nello stesso orario per esempio sempre lo stico scusate sempre nello stesso senso orario anti orario è una tipica brezza no per esempio quella che in toscana chiamano la brezza che fa che segue il sole no che 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 ruota con il sole cioè un vento che è abbastanza stabile e che ha una direzione che cambia man mano che passa la giornata sempre dallo stesso lato un vento stabile quindi intensità e direzioni stabili piccoli salti piccoli scarti nulla di particolare una giornata dove tecnicamente il vento paradossalmente potrebbe non essere la variabile principale perché sia la destra che la sinistra non fanno tanta differenza e perché non mi aspetto cambi di intensità vento a raffiche dove c'è un'intensità molto variabile e una direzione abbastanza costante per esempio una giornata tipica dove viene arriva un fronte temporalesco dove la direzione è pressoché costante di questo fronte ma il vento a seconda dei nuvoloni che passano o del del mutare della perturbazione può avere un intensità differente dai 10 ai 14 ai 16 nodi più o meno sempre della stessa direzione e poi forse la la parte diciamo la giornata un po più complessa è un vento oscillante dove io ho un'intensità anche abbastanza costante ma il tema centrale è la direzione e magari quando noi facciamo quando noi abbiamo una regata costiera dove il vento viene da terra per esempio una boa che è abbastanza sotto la costa e man mano che risalgo questo vento la direzione intensità magari è simile mediamente ma la direzione è molto molto differente quindi ho salti anche di 20 25 30 gradi che mi mettono in difficoltà che possono compromettere la mia regata quindi questo è un po l'idea di dire che tipo di giornata io domani avrò di fronte oggi avrò di fronte tra qualche ora avrò di fronte dopodiché diciamo si passa un po al campo di gara e quindi per aumentare diciamo questo è un primo step per cercare di capire a che cosa vado incontro poi dentro cerco di arricchirlo con alcune diciamo verifiche sostanzialmente distribuzione del vento sul campo ad esempio ci si alza un po in piedi sulla barca si cerca di capire se il vento è distribuito in maniera uniforme se la giornata che io ho immaginato si sta realizzando se c'è uno scuro più da un lato più da un altro verifico la linea di partenza è una linea abbastanza equilibrata non lo è adesso lo vediamo vediamo qualche diciamo tecnica per per capire no per fare una verifica della linea di partenza molti di voi stanno in mare c'è una corrente significativa come la individuo guardo la magari la barca comitato come si dispone perché l'unica bar barca ancorata molti sulle derive tengono magari un piccolo correntometro non è detto che sempre sia un'intensità significativa però in alcuni luoghi lo è per esempio non so penso a venezia chioggia l'alto adriatico ma non solo anche il basso adriatico no oppure non so marina di carrara vicino alla fiume vicino alla foce piuttosto che in alcuni luoghi dove magari no non caratterizzati da fortissime correnti ma magari c'è un fiume e quindi qualcosina la notte ha piovuto per dire e quindi qualcosina mi può mi può sicuramente influire ho inserito una retromarcia perché anche se non è diciamo una parte strategica è sempre secondo me una parte importante dal lato per attivare l'equipaggio scaldarlo un po e quindi fa parte proprio di una strategia pre ok per togliere roba perché di mare veramente si trova di tutto e poi cominciare a dare un'occhiata anche le altre barche che stanno provando che stanno regatando penso alle derive per esempio dove ci sono più flotte guardare quello che fanno quelli di avanti per cercare di capire se queste analisi o previsioni che ho fatto hanno un senso oppure se io non sto capendo che tipo di giornata ho di fronte e qui quindi anche in questo controllare chiaramente la bollibolina parlavamo di una di come si immagina di come si può diciamo preparare un po in pre partenza ma intanto soprattutto con barche di una certa dimensione ci sono due aspetti ce ne sono n ma secondo me due aspetti sui quali bisogna che assolutamente diciamo già già in porto uno deve sapere che avverranno il primo è che con una linea anche non particolarmente lunga si crea si crea spesso un arco e la seconda e quindi lo devo tenere un po a mente più sto vicino ai due estremi più sono sarò sicuro di partire su una linea più mi allontano dagli estremi e quindi perdo un riferimento e e più potrei regalare questa diciamo questo spazio tra me la linea disponendomi su questa parabola su questa no che vedete il rosso sotto la presentazione è molto semplice ma tema concettuale che mi allontana dalla linea che mi fa partire molto in basso perché le barche hanno paura di uscire dalla linea di partenza nell'ultimo minuto e quindi man mano che si si allontana dalla linea le barche tendono a stare un po sotto un po sotto un po sotto fino al centro linea dove solitamente è il posto dove le barche partono più lontane dalla linea e quindi è una caratteristica da valutare anche conoscendo chiaramente la capacità di accelerare della nostra della nostra barca se siamo una barca coi foil è chiaro che l'ultimo minuto non lo possiamo fare sulla linea ma dobbiamo stare a 40 a 50 metri perché le barche come quelle di coppa america fanno 40 nodi e quindi sulla linea ci ci vado in tre secondi ma se sono barche normali dislocanti dobbiamo calcolare no un pochino di accelerazione e poi soprattutto che nell'ultimo minuto le barche piano piano vanno indietro quindi si potrebbe creare un arco il secondo aspetto determinante è che io non voglio nessuna barca sotto vento questo è un aspetto fondamentale perché sembra una roba molto semplice molto scontata ma che in realtà in acqua basta vedere una qualsiasi partenza in realtà pochissimi riescono a fare e pochissimi riescono ad avere uno spazio sotto vento sufficiente per accelerare in totale libertà partire dalla parte giusta è sicuramente importante ma partire con la propria velocità target e avere la propria capacità di accelerare in libertà quindi poggiare poter accelerare è fondamentale il secondo aspetto per cui è importante avere uno spazio sotto vento non è solo la capacità di accelerare ma è che siccome questa immagine se lo zero fosse se questa foto fosse allo zero della partenza la barca con la x sopra non solo non avrebbe accelerato ma nel giro di pochissimo prenderebbe diciamo così il rifiuto della barca sotto vento sarebbe costretta a virare virare nei primi momenti di una partenza è sempre delicato sia perché non sviluppo velocità sia perché sicuramente dovrò dare la precedenza a qualcuno sicuro e quindi già compromette gran parte della mia della mia regata meglio partire diciamo in un posto non perfetto sulla linea ma sicuramente partire diciamo con lo spazio sotto vento così che siamo liberi di organizzare le prime fasi della regata in maniera totalmente autonoma un consiglio che io diciamo ho trovato molto utile e me l'ho detto è un grande allenatore perché diciamo questa intuizione me l'aveva suggerita manchin che volevo dire era uno di quelli che insomma in barca qualcosina ha vinto era di soprattutto in una fase di allenamento o di regate invernali no di regate che magari non sono il centro dei nostri obiettivi diciamo così ma sono regate di allenamento no dove il risultato non è che sia così determinante è immaginare di dividere questa linea diciamo così in tre parti ma anche anche più volendo e cercare di allenarsi a prescindere dalle barche a partire o nel punto a o nel punto b o nel punto c quindi ridurre questa linea quindi una linea da 100 metri immaginarla in una linea fatta di 33 33 33 e poi quando aumentano le nostre capacità e la gestione della nostra barca del nostro team magari provare a partire nel punto a 1 ma ora chiaramente a e le lettere i numeri sono veramente indicativi insomma no ma per diciamo identificare qual è lo spazio in cui voglio partire e diciamo un po un modo per ridurre la complessità di una linea molto lunga e dunque molto complessa se io voglio partire dal centro boa diciamo quindi nella parte c io come dire la parte a sicuramente la devo eliminare dalla mia dalla mia mente nemmeno ci navigo non ci navigo nemmeno nel pre partenza paradossalmente perché dopo magari rimango incastrato non riesco più andare nel punto c no in nell'area c quindi è importante come dire per togliersi dei pezzi togliersi dei pezzi significa togliersi anche delle barche e quindi cercare di non vederle ma stare soltanto sulla parte che a me diciamo interessa e questo all'inizio è un po complesso da diciamo da immaginare però in realtà se uno ci si allena un po invece diventa una cosa abbastanza utile perché mi identifica lo spazio per esempio la posizione c1 che è una posizione dove spesso ci si ritrova a partire perché magari si sta nell'area b poi piano piano queste barche scorrono non arrivo esattamente dalla boa ma diciamo parto dal centro boa è una di quelle posizioni che secondo me è una come dire delle più semplici tra virgolette da allenare perché è vicino a un estremo ma potrebbe non essere diciamo così vicino da stare in un mucchio di barche e quindi posso partire dai punti per allenarli dai punti che io ritengo tra virgolette un pochettino più semplice ma questo è uno strumento è un suggerimento che può far parte della mia strategia soprattutto ripeto in allenamento o in regate che non hanno diciamo che non hanno tanta tanta importanza per noi se me lo permettete se avete domande fate però se me lo permettete volevo far vedere un video al volo di come si difende uno spazio sottovento lo vedete ok lo vedete ok allora questo è semplicemente un un video di pochi secondi è vero parliamo di 5 a 370 quindi barche sicuramente diverse da quelle che utilizzate voi che sentono molto più il peso però il concetto è esattamente quello la tecnica è esattamente quella bisogna diciamo invece coordinare una persona a coordinarne 2 3 4 5 6 a seconda della nostra imbarcazione però tecnicamente dobbiamo aver chiaro come si fa uno spazio sottovento cioè se negli ultimi 30 secondi una barca risale la linea e mi viene ad un metro da meno come faccio a difenderlo questo spazio credo che questo sia un video estremamente significativo intanto apro tutto il boma in molte barche esce abbastanza dalla barca non in tutte però sulle derive sicuramente sì ma poi quando diciamo ho una barca che mi punta no e che quindi minaccia il mio spazio come esattamente in questo caso no io ho una barca più al vento più o meno e una barca che sta riducendo questo spazio la prima cosa che faccio è cazzo il fiocco poggio chiudo questo spazio quindi minaccio e mostro le mie mura dritta no vado incontro almeno con la prua e quindi stendo la barca sulla linea non metto la prua sulla linea come in questo caso diciamo no ma metto la barca sulla linea punto il centro della barca che mi viene addosso accelero due metri e poi guardate qui si vede molto si vede molto bene vado su quando la sto per toccare anche oltre la prova al vento oltre la prova al vento faccio girare il genoa dall'altro lato un secondo vado a recuperare un paio di metri intanto l'altra barca sicuramente ha virato e si sta leggermente allontanando è vero non avrò marcato 50 metri ma ho marcato lo spazio tale da comunque garantirmi una via d'uscita per quella partenza quindi i ragazzi muovono molto il peso è chiaro che più la barca è piccola più sente il peso più quindi io diciamo la capacità di influenzarla se sto con un barcone è molto più complesso però i movimenti e le posizioni da tenere sono sostanzialmente le stesse vedete anche questa doppia virata il peso da una parte il peso dall'altra leggermente la retromarcia per cercare di allontanarsi no quando una barca prova al vento queste sono tutte piccole cose che hanno marcato hanno rischi diciamo hanno marcato questi 3 4 metri di distanza che per un 4 70 sono sufficienti ok e che permetteranno alla barca sopravento probabilmente di riuscire ad accelerare e a fare una parte di prima bolina senza dover necessariamente cadere sul timone della barca sottovento quindi questo è un aspetto che secondo me va va tenuto assolutamente in 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 considerazione ora come si come si studia un pre partenza probabilmente sicuramente l'avete fatto voglio dire lo farete ogni weekend no però abbiamo monotipi barche che vanno simili anche se non sono con propri denti che cioè che non manifestano diversità nei primi 100 metri ma serve due miglia per avere delle differenze benissimo possiamo fare una prova se sono del nostro circolo se li conosciamo no una prova uno parte dalla barca comitato uno parte dalla boa chi passa davanti sicuramente è un'indicazione della posizione della della barca comitato è molto semplice questa è una roba come dire che che si che di cui si parla diciamo nelle prime nei primi momenti però io sono sempre legato al primissimo concetto fare le cose semplici se sappiamo fare bene le cose semplici noi sicuramente ce la sappiamo cavare oppure una pre partenza senza strumenti non c'ho la bussola non c'ho niente non c'ho però non c'ho nemmeno amici oppure sono solo del circolo che fa questa regata scorro la linea barca comitato con la randa più lasca possibile magari senza genoa che almeno non mi crea problemi più lasca possibile ma che sia gonfia e torno vado alla boa o una posizione diciamo vicino alla boa torno indietro non cazzo nulla non lasco nulla mi metto nella stessa direzione quindi punto il palo dei segnali se per tenere la randa gonfia devo cazzare che cosa significa significa che la barca comitato è al vento quindi significa che la barca più barca comitato è più vicina alla direzione del vento perché io devo cazzare vuol dire che devo risalire se invece la barca comitato è bassa nel senso che io per andare in barca comitato dalla boa devo lascare randa e se lasco randa non si sgonfia significa che la boa è sicuramente più vicina alla direzione del vento e quindi come estremo potrebbe essere un pochettino favorevole poi magari senza strumenti non saprò i gradi ma questo alla fine può non essere determinante i ragazzi che partono meglio sono gli optimisti che hanno una grande grande padronanza del mezzo io per esempio ho imparato a partire bene in optimist ma considerate che facevo 180 giorni di mare l'anno è 200 giorni quindi insomma c'avevo una padronanza e una diciamo confidenza no e si faceva tutto se si fa senza strumenti non è che l'optimist ciano rebusso e oggi i ragazzi ce le hanno ma questa roba si impara diciamo così ecco con l'occhio poi se è 7 gradi o 12 gradi o 10 gradi sì qualche differenza la fa magari non parto secco secco dalla boa ma parto dal centro boa diciamo così sicuramente noi abbiamo la fa oggi tutta la strumentazione a bordo che mi fa rilevare velocemente no qual è la direzione del vento io rilevo la direzione del vento dalla direzione del vento immagino un piano cartesiano su cui sommo 90 gradi facciamo che la direzione 30 ci sommo 90 no significa che se io scorro la linea dovrei trovare sostanzialmente la barca comitato a 120 125 115 insomma diciamo in linea retta con la direzione del vento se la trovo dentro questo angolo cioè tra 30 e 120 significa che la barca comitato è più vicina al vento e quindi potrebbe essere un estremo favorevole a prescindere da tutte le altre variabili se invece è sommando 90 gradi a 30 i gradi superano i 120 significa che mi troverò sul quadrante più basso e quindi significa che probabilmente la barca comitato sarà un pochettino più lontana dal vento poi se è di veramente pochi gradi possiamo lasciare anche perdere perché non è detto che noi siamo precisissimi e non è detto voglio dire che il vento non si muova 45 gradi in una linea ci stanno ecco si potrebbe comunque definire una linea un po pari diciamo così quindi questo è diciamo un po velocemente le tecniche che uso io vi dico la verità è cioè che io ho sempre utilizzato e che hanno sempre funzionato diciamo così se ci avete qualcosa voi interrompetemi perché io magari parlo molto e parlo pure velocemente non lo so ecco se se avete capito tutti insomma allora vuoi una domanda Marco no ok ok allora complesso entrare diciamo all'interno di tutti di tutti gli schemi che noi abbiamo visto prima no però e quindi vento oscillante vento a raffiche tutta questa roba diciamo ho pensato di fare un focus su forse la giornata un pochettino più complessa dove ho una direzione l'intensità anche anche ma diciamo dove ho sostanzialmente una una direzione molto variabile lezione variabile un po ritmica che io riesco a calcolare non so se voi per esempio avete mai diciamo lavorato un po con le bussole no però diciamo andare in mare con qualche ora d'anticipo con qualche mezz'ora di anticipo non esageriamo e segnarsi un po quello che fa il vento e quindi segnarmi non lo so faccio 7 8 minuti in bolina preparo preparo mi guardo come il vang la base mi guardo le mie cose mentre mi guardo le mie cose l'equipaggio prepara le scime le mette in ordine no siamo un po pronti ci facciamo qualche virata magari mi segno molti quattro e settantisti hanno proprio una matita con del nastro adesivo sostanzialmente che attaccano in barca dove si segnano un po un paio due o tre rilevazioni del vento quando navigo non so mura dritta segno il massimo destro in 7 8 minuti il massimo sinistro in 7 8 minuti e faccio diciamo così una soprattutto in giornate dove ecco il vento è un po incostante non sta ancora entrando quella brezza e mi segno un po la direzione media faccio anche un muro a sinistra quindi viro e mi faccio diciamo i miei conteggi mi tirerò fuori tre dati a destra e tre dati a sinistra un vento medio e diciamo i due picchi di massimo destro e massimo sinistro per ogni lato e intanto me li segno non esiste una regola diciamo per tutte le condizioni è sempre funzionante no però se vogliamo provare a trovarla possiamo dire che in bolina quando il vento sta destro della direzione media cioè quando io segno quando vedo che navigo e il vento è un po più a destra di quello che io ho indicato come valore medio o che ho provato come valore medio allora dovrò cercare di navigare più possibile mura dritta perché è chiaro che se il vento va a destra no le mura dritta sono l'andatura il bordo che mi avvicina di più alla boa che in questo schermetto è la freccettina celestina quella vm più 10 vm più 10 come dire provoca una rotazione del vento a destra mi metto mura dritta quando il vento è a sinistra del valore medio navigherò esattamente all'inverso sembra un po come dire queste anche anche questa è un po' una roba che noi impariamo non dico il primo giorno di scuola vela però nemmeno l'ultimo no nel senso che quando siamo autonomi abbiamo capito che cos'è un buono e che cos'è uno scarso e quindi sembra una nozione molto diciamo dentro le nostre conoscenze ma quando siamo dentro una regata non è detto che abbiamo la lucidità per fare questa roba non è detto che ci accorgiamo sempre che stiamo navigando oltre una direzione media del vento soprattutto se non ce lo segniamo e se non abbiamo tante ore di mare perché non avere tante ore di mare significa non avere tanta sensibilità sviluppata e quindi potersi non accorgere di quello che accade e quindi diciamo fissarselo sapere che deve uscire 30 minuti prima perché voglio guardarmi il campo perché devo fare un po di quello che abbiamo fatto rientrare nella parte strategia e perché voglio capire che cosa fa il vento se è una giornata che io ho battezzato correttamente allora come dire da un po di chiarezza anche a quello che faccio io durante no una lo svolgimento di una giornata non di una regata ma di una giornata e quindi esco prima mi segno tre quattro cose non devo necessariamente essere un professionista è basta come dire essere un po seri tra virgolette cercare di e voler migliorare e voler fare anche un buon risultato se metto insieme tutti questi pezzettini comincerò ad avere in mente la giornata che potrebbe che potrei avere di fronte prima parlavamo della della corrente no noi la corrente spesso la immaginiamo una una come una roba che spinge no perché effettivamente è così soprattutto con barche a chiglia in realtà chiaramente soprattutto ripeto nell'alto adriatico ma io per esempio ho fatto diverse regate nello stretto di reggio calabria è una roba dove se non consideri la corrente è meglio che sta in porto perché la forza della corrente è simile all'intensità del vento influisce tra virgolette anche un po sul vento reale no con un vento va io avrò due line line sostanzialmente ab quelle che vedete spezzate da 90 gradi sostanzialmente 45 gradi da un lato 45 gradi da un altro più o meno l'intervento invece della corrente è come se come dire utilizzasse la sua forza per esercitare una pressione non solo sullo scafo ma anche sul vento e quindi muovere paradossalmente le mie line line la line a si avvicina quindi si stringe un po la se la corrente è diciamo nella direzione di c perché perché se io viro prima se io viro sul vettore rosso invece che sul vettore blu man mano che proseguo la corrente mi tirerà esattamente dove il vettore a che sarebbe esattamente la line line corretta per il vento che ho ma siccome ho corrente che mi tira su è bene che io 200 metri prima viri un po sotto questa line line e piano 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 vedrete che arriverò in boa come se avessi virato sul punto a se virassi sul punto a andrà un po alto no stessa cosa all'inverso nel vettore b e quindi mi si allontana un po perché questa corrente man mano che mi avvicino alla boa mi schiaccia e mi allontana sarò costretto a rivirare e ad aprirmi ad alzarmi verso diciamo il vettore rosso che sarebbe il nuovo b e quindi dobbiamo tenerla un pochettino a mente perché mentre durante la regata non è detto che io riesca sempre a valutarla quando c'è un vincolo e c'è una boa io invece lo vedo bene l'effetto della corrente sul mio scafo perché mi avvicina mi allontana mi fa toccare la boa o me la fa girare larga e quindi è bene come dire che come che che ci faccia una riflessione non è un po sulla direzione e sull'intensità poi se l'intensità è un nodo di corrente il vento e venti nodi è chiaro che la corrente del tutto è del tutto in influente anche qui diciamo una nota sulla poppa non esiste una regola specifica solitamente se noi navighiamo ingaggiati o molto vicini ad altre barche solitamente si naviga sempre alla velocità del più lento perché il più lento ti fa orzare se tu sei sei davanti se invece sei davanti tu il più lento comunque ti copre un po e quindi tu ti liberi leggermente e quindi ripoggi piuttosto che orzi non fa esattamente la rotta che vorresti fare quindi non riesci a sviluppare la tua velocità non sai bene esattamente cosa fare perché aspetti quello dietro e invece se sei dietro come dire la tua strategia è influenzata da quello che che fa da quello che fa la barca davanti quindi diciamo solitamente si rimane un po incastrati tra virgolette e quindi soprattutto se siamo consapevoli di avere una buona velocità e un equipaggio non preparato però diciamo non necessariamente super preparato però un equipaggio sul quale noi possiamo contare cioè persone che sanno cosa fare solitamente meglio allontanarsi un pochettino e sviluppare la propria velocità portare lo spi come lo vorremmo portare riuscire ad andare profondi se riusciamo se abbiamo la sensibilità diciamo sul timone per scendere bene e quindi diciamo districarsi fin da subito da dalle altre barche un vento oscillante è diciamo auspicabile un bordeggio di avvicinamento che è esattamente inverso a quello che avviene in bolina cioè quando il vento a destra della direzione media navigo con le mura sinistra perché riesco ad andare più profondo no se il vento sta nella nella freccetta blu chiara stavolta non navigo mura dritta no ma navigo mura sinistra perché riesco a scendere molto di più e riesco soprattutto ad stare un po più stretto no immaginiamo la stanghetta blu no a 90 gradi con la direzione di vm no saremmo all'ascono in pupa quindi a mura sinistra e quindi saremmo nella come dire nell'andatura più veloce possibile quindi estremizziamo un po il concetto mentre invece quando il vento è a sinistra chiaramente navicherò mura dritta esattamente dell'inverso diciamo della regola se così la possiamo definire della della bolina che ci siamo di cui abbiamo abbiamo parlato vado avanti troppa roba un po incastrata per per me è abbastanza chiaro se qualcuno vuole fare qualche domanda se no poi magari ti faccio qualche domanda adesso hai parlato di vento oscillante che come dicevamo è un pochettino la situazione più complicata forse da leggere però se qualcuno ha qualche domanda le lascerei fare qualche domanda poi magari ti faccio una domanda io invece quando in una situazione tipica di campionati invernali quindi con tramontana evento a raffiche sostanzialmente esatto esattamente qualcuno vuole intervenire prego anche su altro anche indietro e cioè chiaramente andiamo avanti dai sì lorenzo è tutto molto caro ma certo è complicato dimmi come ti posso aiutare bisogna e no bisogna stare in barca e sperimentare se ne io sto ascoltando e mi pare di capire ecco però è comunque complesso e articolato soprattutto questa parte che ci stai spiegando che poi in mare può essere anche un pochettino più paradossalmente più intuitiva no perché uno scarso magari in bolina lo riconosco non mi si sgonfia il fiocco no mi si sgonfia il genoa e lo riconosco quindi a quel punto magari è più intuitivo però sicuramente non è banale ecco e no certo che no ciao scusa sono cristina non mi sono presentata ciao ciao cristina entriamo a poi se ci sono altri voi interrompetemi allora no solo una cosa dato che ci troviamo sempre a regattare sostanzialmente con tramontane liguria cioè 90 90 volte su 100 in inverno c'è tramontana quindi abbiamo sempre situazioni con la boa di bolina verso terra normalmente ok e quindi c'è la classica situazione dove hai raffiche poi il vento molla di botto poi di nuovo raffiche eccetera eccetera per il bordeggio di avvicinamento in bolina hai qua che consiglio da darci cioè se ogni volta diciamo che che crolla la pressione virare subito piuttosto che aspettare perché poi magari 50 metri dopo c'è di nuovo c'è di nuovo pressione cioè si vede sull'acqua quindi mantenere cioè nel senso discorso qual è sapendo che comunque a occhio vedi già che subito dopo c'è di nuovo aria prendersi tra virgolette quel buco oppure al crollo diciamo della della pressione virare subito ma allora diciamo quelle sono le giornate sicuramente più complesse perché poi non solo c'è una grande variabilità ma una variabilità che cambia cioè la prima bollina non è uguale alla seconda perché quella raffica non sarà lì e quindi la variabilità come dire è complessa e anche diversa un aspetto per esempio nel riconoscere questo tipo di giornate è questo a mio avviso già faccio una scelta con giornate di questo tipo e dal lato io mi concentrerei sulle variabili che mi semplificano il lavoro ok quindi la prima cosa che penso in una società di questo tipo è che il mio avversario principale non sono le barche ma è il vento nel senso che non regaterò man mano che salgo e che quindi mi avvicino alla costa non regaterò sulle barche perché se navigo a coprire una barca o navigo diciamo mantenendo il controllo su una parte della flotta non è detto che quella parte della flotta abbia la mia stessa intensità e la mia stessa direzione di vento quindi una copertura tra virgolette classica o un controllo classico potrebbe non darmi nessuna soddisfazione anzi potrebbe essere come dire un controllo posizionale ma che in realtà mi fa perdere tantissimo perché io vado a chiudere senza raffica e con uno scarso per dire e gli altri magari hanno una raffica in buono no e quindi accorciano in maniera significativa il secondo aspetto è verificare intanto che buco e che intensità di cui parliamo cioè se sono di pochi nodi sicuramente vale la pena proseguire anche perché con barche da 4 o 5 persone non è banale virare e fare tante virate alla fine ti può mettere un po in difficoltà a parte stancare le persone ma poi non è detto che ad ogni buco convenga fare una virata se il vento fa tipo grignano con la bora il vento fa da 18 nodi a 8 nodi allora è chiaro che io devo manovrare perché l'intensità è veramente troppo differente è meglio rimanere sulla pressione ma se il buco è un buchetto tra virgolette e io come dicevi tu marco già la rivedo la pressione conviene star lì conviene star lì e andare avanti e come dire tenere duro perché poi capiterà anche agli altri e navigare sul vento l'ultimo aspetto è terzo aspetto capire come entrano queste raffiche nel senso che qualche volta sono raffiche unidirezionali cioè che scendono e che sono una sorta di di rettangolo che investono il mare e quindi chi sta dentro questo rettangolo la becca chi non sta dentro non la becca oppure raffiche che sono un po più diciamo a semicerchio a raggera cioè dove questa raffica entra e quindi colpisce tutto il mare ma a seconda di dove mi trovo dato che come dire il semicerchio un cerchio ha posizioni differenti a seconda di dove lo becco potrei avere diciamo alcuni gradi piuttosto che altri però se sono raffiche a raggera molto complesso prevedere come dire la loro capacità di irradiarsi in mare significa che sono molto vicino alla costa e che probabilmente dovrò tenere duro però le raffiche a raggera di solito diciamo coinvolgono tutta la flotta la beccano un po tutta e quindi dal punto di vista dell'intensità non dovrei avere particolari problemi se becco la parte di angolo sbagliato e quindi un grande scarso a quel punto mi conviene virare stare dentro questa raffica anche se strategicamente forse avevo immaginato di andare dritto tatticamente e quindi mi adatto ad una situazione viro sto dentro l'aria e prendo un buono magari non è l'ideale perché ho poco spazio piuttosto che navigo sotto a uno vicino ad uno però è sicuramente il male minore non so se ho risposto diciamo alla alla domanda marco ma cercato di beccare un po tutte le le variabili però ecco in questo caso le barche passano leggermente in secondo piano rispetto a rispetto al vento mi senti sì sì allora mi è sparita la telecamera però no ti ringrazio tanto per questa risposta perché è sempre un pochettino un terno allora il nostro problema qual è il problema che quando noi regatiamo in questi campionati dove ci sono barche molto diverse con che hanno lunghezze diverse pesi diversi equipaggi diversi eccetera eccetera è difficile capire se tu stai facendo la cosa giusta perché hanno prestazioni anche molto diverse no quindi tu non hai dei riferimenti e fai veramente fatica a dire ok questa volta ho fatto la cosa giusta l'altra volta ho fatto la cosa sbagliata io più o meno cerco cercavo di orientarmi nella maniera in cui te cioè lì bisogna veramente vedere cercare di navigare nel vento alla fine dei conti cioè non c'è chiaro che devo stare dove c'è più pressione a meno che non mi sbatta che mi faccia appoggiare da maledetto a quel punto lì allora virerò però però e quindi questa insomma mi conforta questa cosa che dici probabilmente la difficoltà che abbiamo noi anche capire che non avendo dei riferimenti precisi è difficile alla fine tirare poi tirare poi le somme un'altra cosa che ti volevo chiedere se nessun altro da fare una domanda è per quanto riguarda la partenza sempre nelle condizioni che facciamo noi quindi a volte regatiamo per dire in classe libera con spino dove tu ti trovi nella stessa partenza barche di 9 metri e mezzo barche di 12 metri e mezzo quindi e che hanno velocità molto diverse a parte che a volte in partenza capita un po di tutto ma al di là di quello alla fine dei conti secondo me la scelta giusta è quella di cercare di navigare nel vento pulito cioè piuttosto non fai una partenza particolarmente spinta cioè perché il discorso qual è che se tu ti vai a ficcare in un punto magari molto molto ben posizionato però dove è subito dietro di te delle barche che hanno tutto un altro passo dopo 30 metri 40 metri sei impacchettato e tutti fermi e non le vedi più quindi in sostanza almeno il ragionamento che stavo facendo io è quello veramente di privilegiare di fare la regata come se fossi da solo praticamente sì diciamo che la classe libera quindi la non monotipia di una di un campionato sicuramente per certi versi se non abbiamo la barca più veloce ci complica un po la vita no perché io magari ho in mente la partenza perfetta magari faccio anche quasi tutto bene poi arriva uno che è il doppio di me e pur diciamo improvvisando trovandosi lì per caso ammettiamo chiaramente vanifica in maniera molto significativa la mia partenza purtroppo quella roba lì fa parte di una come dire della del del durante cioè della tattica che io voglio utilizzare e quindi se so che la mia barca non è tra le più veloci è chiaro che non solo non ci dovrò avere uno quattro metri sotto vento ma probabilmente non ce lo dovrò avere nemmeno 10 metri sotto vento cioè dovrò marcare uno spazio ancora più significativo ma non solo ma c'è un problema anche sopra vento perché magari è talmente più grande di me talmente più veloce di me che mi mette in difficoltà perché mi passa da sopra quindi quella roba lì è chiaro che mi fa come dire mi fa pensare di andare a favorire una partenza dove sto un pochino più libero dove sono sicuro che dopo 40 metri come dici tu non sto completamente impacchettato la libera è anche una regata complessa sotto sotto certi aspetti perché comunque capire se sto facendo bene se sto facendo male è un po' legato alle mia velocità target alla mia tattica di regata più che agli avversari e quindi come dire è difficile avere un autoriferimento sotto questo aspetto no significa aver fatto tante ore di mare significa saper quanto naviga bene la mia barca con delle con determinate condizioni quindi sapere se sto facendo una velocità se sto sempre la velocità target o se navigo troppo sbandato per esempio quindi sicuramente questa roba complica un po' tutto quello che io avrei scelto sceglierei per per quanto riguarda per quanto riguarda la mia la mia navigazione insomma però dal lato è anche un po' formativo perché tutte queste capacità di disingaggiarsi da problemi poi alla fine tornano tornano assolutamente utili insomma ecco perché se vuoi becco il monotipo magari non c'ho nessun problema per dire quindi diciamo un po' è un po' ambivalente la cosa però sicuramente in partenza può complicare ecco senza dubbio anzi complica senza dubbio ok grazie mille allora facciamo un altro passettino e andiamo sui giri di boa i giri di boa sono soprattutto quello in poppa è una delle cose più sottovalutate secondo me in ambito per chi regata anche per chi è molto bravo a regatare nel complesso perché chiaramente non esiste una regola cioè non è che c'è una regola io penso che ci siano due momenti fondamentali e cioè che possono fare la differenza e cioè condividere col proprio equipaggio che cosa vogliamo fare che cosa vogliamo fare significa in un cancello per esempio dove andare ma significa anche che tipo di manovra fare se siamo ingaggiati per esempio e vogliamo stare fino all'ultimo interni e tiriamo navighiamo col tangone non navighiamo col tangone navighiamo solo con lo spinnaker e puliamo tutto tiriamo sul genoa l'ultimo cioè noi dobbiamo avere consapevolezza piena di quali sono i tempi di reazione del nostro equipaggio e condividere diciamo qual è la manovra che io voglio fare dopo la boa viro subito abbiamo visto ora in coppa america è vero che è semplificato dal fatto che non hanno lo spi però in alcune regate soprattutto quando giro molto vicino ad uno ci può stare se io faccio una bella manovra non dico che accelero ma la barca guardate che non rallenta poi così tanto e soprattutto in poppa cioè no soprattutto in poppa quindi faccio una bella orzatona che mi porta navirata lo sappiamo fare è una scelta che noi abbiamo mai allenato se la chiamiamo come manovra siamo in grado di farla in maniera bene diciamo così se poi andiamo avanti e quindi tra le n opzioni possibili immagino per esempio un ingaggio no che se ne vedono a milioni se siamo indecisi tra due opzioni cioè che facciamo rallentiamo passiamo dietro ci mettiamo in fila indiana andiamo fino in fondo e quindi proviamo per esempio siamo la barca esterna proviamo a disingaggiarci fino all'ultimo perché con un po di fortuna possiamo disingaggiarci allora significa che i ragazzi sarà una manovra molto compressa perché non avremo i tempi canonici per fare questa attività di ammai nata via al giallo spinnaker sul genoa via il tangone bla 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 ricazzo al vang la base cunningham tutta questa roba pesi fuori e quant'altro sappiamo che avremo la manovra molto compressa che probabilmente potrebbe anche venire non correttamente perché non è detto che riusciamo a disingaggiarci cioè ne dico tante per per dire una cosa semplice condividete per chi timona o per chi gestisce per chi decide condividete le cose da fare no e se non avete deciso dite glielo al vostro equipaggio che siete indecisi non è possibile tra n mila attività ma tra due no tra le due più probabili quindi o facciamo questo o facciamo l'altro ok così che le persone che stanno a bordo e che magari stanno uno già in prua uno che sta verificando già abbiano in mente la soluzione le due soluzioni al massimo no e poi quando si prende una scelta cercare di immaginare che cosa accadrà su questo vi faccio vedere un video molto dal lato è banale per carità ma dall'altro lato è una roba che si vede non di continuo ma di più non so se lo vedete no cioè qui giro di buona regata di flotta 30 barche non lo so 50 barchi in questo giro ce ne stanno solo contarle qui una due tre quattro cinque sei sette otto fino allo spi giallo no 9530 cioè qui ci sono tutte barche che a parte gli interni che potrebbero aver avuto anche fortuna tipo 672 gli altri non hanno maturato non sono riusciti in tutta la poppa a fare questa scelta perché se l'avessero fatta vi assicuro che tutte queste barche esterne che vediamo ora non ci sarebbero sarebbe improponibile arrivare i cosi esterni guardate per esempio questa immagine qui guardate allora guardate questa barca 217 guardate qui dove 217 qua passano una due tre quattro cinque sei sette spinnaker 5 3 0 8 pinnaker giallo giallo 9 andiamo avanti 34 esterno qui si complica perché non riesco a tirar giù lo spi perché non ho condiviso probabilmente quell'equipaggio che cosa avrei voluto fare quindi tutti larghi guardate 8 9 10 guardate le barche che ci stanno qua dentro 6 8 6 eccolo 217 che era fuori dai primi 10 la dico così ma di gran lunga perché i metri erano tanti si ritrova a girare una boa terzo quarto sostanzialmente ma le barche che stanno qui cioè ita 404 per capirci questa barca qui no questa barca con lo scafo blu no ma lo vedete che è un metro ora facciamo che 5 3 0 interno e sia andato un po lungo ma 404 com'è possibile che da esterno tira giù lo spinnaker è un metro dalla boa ma chi sta esterno in questo tipo di condizioni qui qui quello con lo spi rosso no deve fare una sola cosa che è la cosa più irrazionale che si fa in questi momenti ma è la cosa più logica e più lucida da fare cioè fermarsi tirare giù lo spinnaker non in questa posizione perché non ha senso andare forte lo so che è paradossale ma non ha senso andare forte qui bisogna andare lenti fare in modo che questa palla che si crea sulla boa faccia un casino della madonna mettersi in coda alla prima barca che non è ingaggiata quindi in questo caso dietro 5 3 0 per esempio aspettare che la palla faccia il suo corso mettersi qui dietro e girare attaccati alla boa con un po' di fortuna 5 3 0 guardatelo che ha tirato giù lo spitardi quasi che va addosso a ita 1 7 7 saremo entrati dietro attaccati a 6 8 6 eccolo qui passato 5 6 barche pulite tranquille nessuno che mi ha dato fastidio guardate quello di cui parlavamo spi rosso e barca blu cioè è ancora lì in mezzo sotto a 4 0 4 30 metri puliti di lato dalla boa comincerà la bollina ancora con più fatica guardate questa sembra una boa veramente dove succede di tutto ma in realtà è una regata di flotta soprattutto con le barche come le vostre dove ci sono dimensioni anche differenti quindi velocità differenti dove io magari calcolo mare le tempistiche quindi mi incastro sono all'ordine del giorno e quindi è fondamentale condividere con il team che cosa fare ci sta che io tiro giù lo spi sempre a 30 metri dalla boa perché mi bastano se so esterno soprattutto a 2-3 barche lo tiro giù a 50 metri a 70 metri rallento oppure non lo tolgo lo faccio sbattere cazzo le vele al centro come se fossi di bolina quindi randa praticamente chiusa e mi accodo mi accodo alla prima barca interna che c'è perché la fretta mi complica le cose lì se io accelero e continuo ad essere esterno dentro una barca esterna dislocante questa qui è una barca da 6 metri quel video ma voi avrete barche da 8 da 10 da 12 da 14 cioè quando orzano queste barche qui col timone che non è nemmeno in fondo ma da 7 ottavi spostano una marea di acqua e vanno molto sotto vento quindi è fondamentale fare un buon giro è meglio di fare una buona puppa perché sai le puppa se non c'è tanto vento e non c'è tanto onda io non posso fare grandi manovre alla fine della fiera che faccio vado dritto più o meno camminerò un po' ma la boa è fondamentale ci si vincono ci si perdono fiorfiore di campionati fiorfiore di punti campionato da 3 giorni con 10 prove fosse un punto a prova su 10 punti fosse un punto a prova ma non è mai un punto a prova perché poi la bolina comincia fatica ci sono altri video dove io so che non posso virare perché per esempio mi entrano delle barche che stanno anche se non sono state ingaggiate solo che escono più strette di me se escono più strette di me e io sto sotto vento faccio fatica a virare perché se viro c'ha sicuramente non è detto che io ci abbia spazio anche se viro mi metto mura dritta ma so talmente lento che basso che magari qualcuno mi passa oppure che non c'ho nemmeno lo spazio per fare una manovra completa quindi non riesco a virare e allora poggio poggio 3 gradi le barche non planano quindi non accelero mi allontano e basta solo per avere un po' di vento pulito e la mia bolina già è compromessa a quel punto vi assicuro che quando vi accade una cosa di questo tipo non c'è né vento medio né vento oscillante perché la testa è già incartata su tutta questa roba e ho appena cominciato la bolina la devo fare tutta quindi figuriamoci sommare queste cose qui alla fine vi assicuro che vi darà come dire la differenza fa la differenza tra un buon giro e tra un buon risultato è un risultato meno bello o addirittura pessimo la prossima volta ne parleremo un po' meglio però sicuramente soprattutto con barche che stanno in mare e che noi non è che le tiriamo sul carrellino carena bulbo timone disposizione della roba a bordo non 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 dite questo è una piccola cosa non la faccio perché un insieme di piccole cose alla fine è una grande cosa quindi se potete sistemare le barche riguardare le carene disporre gli oggetti a bordo in maniera diciamo sopra la chiglia scendere della roba che è assolutamente inutile sono tutte piccole cose però alla fine un pezzettino di differenza la fanno una nota secondo me importante è che tutto ciò che è elastico è nemico di tutto ciò che invece vuole essere veloce quindi tutto ciò che si muove a bordo lo eliminerei ma anche e magari la prossima volta ne parliamo un po' di più anche se è complesso perché come dire ogni barca avrà le sue caratteristiche però le tensioni del sartiame piuttosto che dello strallo piuttosto che del paterazzo sono molto importanti e avere roba particolarmente molle o lenta ci può creare a mio avviso per la mia esperienza qualche problema sulla 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 velocità perché tutto ciò che è morbido diciamo così si asseconda un po' la forza dell'aria e non è detto che ci dia quello spunto che noi immaginiamo meglio un giro in più un giro in meno io dico meglio un giro in più se ci abbiamo qualche dubbio su quando regoliamo le tensioni delle manovre fisse quindi diciamo delle dell'appendici dell'albero quindi sartiame e strallo l'ultimo aspetto è rispetto alla comunicazione un altro elemento che secondo me è molto delicato ma anche determinato e cioè i ruoli a bordo chi fa che cosa chi fa che cosa quando le cose vanno male chi fa che cosa quando le cose vanno bene quando le cose vanno male che cosa voglio dire voglio dire quel tipo di atteggiamento un po' catastrofista che per i timonieri è proprio il panico li fa piombare nel 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 dramma e cioè siamo i più lenti di tutti non facciamo pruva per niente siamo i più lenti siamo ultimi non camminiamo magari è pure vero perché magari non cammina però quando le cose vanno male come dire andrebbe un po' isolato colui che diciamo è un po' più il più negativo dell'equipaggio magari invece di dire siamo i più lenti fare una proposta di dire ma se molliamo il Vang ma se molliamo un po' la base ma se proviamo aprire non so il carrello del Genoa e invece chi fa che cosa quando le cose vanno bene cioè chi è che decide le prime virate la prima virata fuori dalla partenza cioè sono cose che solitamente si improvvisano quindi non è che vengono studiate sì magari c'è un tattico a bordo quindi tendenzialmente che è il più esperto non lo so tendenzialmente fa lui però anche lui non ha la consapevolezza di quando cioè di quando lo devo fare ma si sente incaricato di questo ruolo perché magari è il più esperto però cioè non lo sa esattamente no che cosa dire e qui andiamo agli oggetti il punto 3 cioè quali sono gli oggetti della comunicazione cioè che cosa serve sapere serve davvero sapere 50 cose siamo sicuri secondo me no che cosa è che vuole sapere un timoniere quando la barca esce dalla linea 100.000 cose no secondo me due o tre ecco le condividiamo prima cioè che cosa è che è interessante per noi che tipo di prua facciamo che tipo di velocità abbiamo se abbiamo una barca che ci sta sfilando una barca vicina cioè una barca a 30 metri è un'informazione no probabilmente no nelle fasi successive è la linea però invece potrebbe essere un'informazione se so su un estremo la prua dell'altra barca all'altro estremo cioè la più lontana cioè significa siamo con una separazione di 100 metri e a 100 metri da noi quindi di là la prua è un po' più bassa ok quindi può darsi che navigano forse su uno scarso significa che stiamo navigando bene in quella fase lì se c'è una prua leggermente più bassa della nostra perché significa che se noi siamo sotto e loro sono sopra stiamo riducendo piano piano questa distanza se invece le prue fossero più alte significa che a destra è possibile che stia entrando o sia entrato un buono questo significa che noi dobbiamo andare di là può darsi dobbiamo andarci subito no non è detto perché magari torniamo indietro ma dobbiamo scalettare magari piano piano verso la destra perché è la destra che sta pagando quindi questa roba deciderla prima cioè sono informazioni che servono oppure io ho timorato tre volte in vita mia a me questa roba non me ne frega niente anzi per me è incomprensibile quindi non mi dite niente mi dite soltanto se c'è uno che ci viene addosso se c'è uno che è particolarmente vicino se no non mi dite niente può essere una soluzione perché semplifichiamo le cose ad uno che sta imparando e magari imparando come dire si concentra sulla velocità della barca e magari migliora e quindi abbiamo portato a casa tra virgolette un risultato che è quello di migliorare quindi definire che cosa è interessante e che cosa non lo è sostanzialmente non è detto che per tutti quindi l'oggetto standard della comunicazione sia lo stesso e anche avere un'uniformità di linguaggio cioè usare per esempio la nostra barca come riferimento siamo più veloci siamo più bassi no più alti significa che il soggetto siamo noi più lenti no e n cose quindi chiarirsi pulirsi diciamo di tutte incomprensioni soprattutto diciamo anche a fronte di barche mediamente lunghe dove dentro ci sarà la tensione della regata piuttosto che i rumori della barca piuttosto che i rumori del vento piuttosto che dentro un ingaggio ci siamo detti le bestemmie di pure chi sta accanto a noi perché ci avrà i stessi problemi nostri no e quindi tutto quello che mi può sporcare anche la comunicazione se io sul giro di boa condivido quello che voglio fare parliamo tutti lo stesso linguaggio sappiamo qual è il nostro ruolo chi fa che cosa no allora a quel punto non saremo più bravi però abbiamo le cose chiare di quello che noi dobbiamo fare la definizione dei ruoli è fondamentale soprattutto quando le cose vanno quando le cose vanno male perché si tende soprattutto in barche multiple dove ci sono più persone a diciamo anche per un eccesso di altruismo invadere i ruoli altrui quindi questo lo faccio io no no ma tu non ti preoccupare questo riesco meglio io ecco su questa roba secondo me non vale granché la pena perché è una sorta di altruismo che poi in realtà sta a indicare che se non lo faccio io non lo fa nessun altro o che lo faccio io perché sono il più bravo e quindi gli altri non valgono nulla quindi la definizione del ruolo per quanto piccola per quanto modesta qualcuno ha un ruolo più significativo fa l'attaccante deve fare gol qualcuno fa un ruolo un pochettino diciamo meno parescente però dentro una squadra ognuno ha la sua funzione secondo me è un aspetto da valutare anche per un equipaggio soprattutto per un equipaggio di non professionisti i professionisti non si offendono perché alla fine sono lì pagati quindi bene o male se la cavano ma invece un equipaggio di persone che magari si incrociano anche per la prima volta o che stanno mettendo insieme l'equipaggio dici guarda questo lo faccio io questo lo fai tu magari alla prossima regata ci invertiamo vediamo a chi viene meglio però finché non è una decisione condivisa io faccio questo e l'altro fa altro altrimenti ci acciacamo un po' ai piedi e diciamo così si crea una condizione tipica che c'è tantissimo per esempio nel mondo delle imprese paradossalmente dove i nostri membri del team tifano perché la squadra perda tifano perché noi andiamo male perché se andiamo male magari mi mettono magari timono io la prossima volta se il timoniere non è granché magari la prossima volta come il giocatore manda via nell'allenatore magari dalla panchina gioco io e gioco titolare quindi definizione del ruolo e rispetto del ruolo secondo me è uno di quegli aspetti fondamentali dove si possono fare grandi passi avanti e che molto spesso è sottovalutato l'ultimo aspetto è appunto evitare proprio il catastrofismo che che solitamente capita l'abbiamo detto prima capita un po' in tutte le barche ci passano tutte le parti siamo i più lenti siamo gli ultimi non facciamo brua e quant'altro per poter riuscire a ottenere risultati sono chiaramente utili e anche necessarie se vogliamo altre caratteristiche oltre la tecnica la parte fisica e quant'altro quindi credo che non ci sia sport più didattico di questo perché l'umiltà secondo me è un aspetto fondamentale in questo sport io per esempio sono una persona che insomma tende ad ascoltare molto e perché credo che si possa apprendere molto ma non so se vi è capitato sicuramente vi è capitato chiudo con questo di tornare a terra dopo una regata no mangiare la pasta e ascoltare le cose che che vengono dette dai regatanti solitamente su una flotta non lo so facciamo ipotesi di 30 barche in alcuni momenti della regata io non dico tutte 30 ma diciamo 20 quindi due terzi sono state prime durante la regata se voi ascoltate i racconti io in partenza ho fatto una partenza fantastica ero primo poi se non sbagliavo quell'incrocio guarda ero primo se mi teneva quel vento lì che mi ha dato per un paio di minuti ero primo poi dopo non si sa come mai uno si è incastrato quell'altro ha perso il salto quell'altro eh non si sa come mai si sono confusi e nessuno di loro ha vinto la regata ecco io penso che invece nella fase di debriefing diciamo e di comprensione ci vorrebbe un po' questa umiltà a parte nel racconto ma nel capire davvero quanto sono andato vicino al risultato che ci avevo in mente che cos'è che non ha funzionato se veramente è stata un po' di sfortuna che ci sta soprattutto in questo sport o se veramente devo cambiare e resettare qualcosa perché non ho regatato bene vincere e fare le cose bene eh è un'eccezione non è la regola non è la regola di nessuno sportivo nemmeno del più vincente di tutti i tempi è solo parte del processo come dire di apprendimento che ogni tanto ti dà una grande soddisfazione che è il picco e la vittoria ma saper perdere e cercare come dire il motivo più che il colpevole è la vera essenza del processo di apprendimento quindi capire che cosa non ha funzionato e provare diciamo a correggerlo un po' per fare un passettino in avanti nessuno vince sempre leggete qualsiasi biografia di qualsiasi sportivo non lo so Michael Jordan forse l'emblema del più grande sportivo di sempre troverete che sono molto ma molte ma molte di più le sconfitte che ha registrato in tutta la carriera sono molte di più le partite che ha perso eppure è il sinonimo del più grande atleta di tutti i tempi forse dell'atleta più vincente di sempre quindi come dire vincere è parte del percorso ma è un pezzettino piccolo che va alimentato ma insomma dobbiamo fare i conti e fare l'abitudine con le sconfitte che invece saranno molto di più come penso capiti anche voglio dire nella vita non solo nello sport io diciamo toccando un po' tanti temi quindi capisco che passare un po' di palo in frasca ma da un lato è un modo per come dire fare una panoramica su tanti argomenti dall'altro è un modo anche per conoscerci diciamo così quindi toccare più temi magari a qualcuno lo attira più una cosa piuttosto che un'altra ho cercato di dare un po' una panoramica di tutto quello che io ho appreso in veramente tantissimi anni e farvelo diciamo così ecco cadere un po' addosso senza la pretesa che sia chiaramente tutto tutto chiaro insomma ecco però con la speranza che vi porti in contributo grazie decisamente molto chiaro specialmente la parte finale grazie grazie davvero Lorenzo insomma gli ultimi minuti sono si vede che ti piace tanto questo sport e che insomma ti è entrato proprio dentro penso che tu faccia l'allenatore anche ma io l'ho fatto l'ho fatto per un periodo e poi diciamo ho un po' mollato soprattutto negli soprattutto nelle derive negli optimist però sicuramente la parte didattica mi è rimasta diciamo mi è rimasta anche perché penso che è un po' io ho sempre pensato tipo a scuola che la parte teorica fosse una roba noiosa e che bisognasse fare la pratica e non bisognasse studiare granché la parte diciamo così più teorica intellettuale in realtà poi nello sport mi sono reso conto che invece la parte di riflessione è un po' più teorica ha un peso significativo e quindi diciamo avevo ho sviluppato un po' di riflessione ecco su questo su questi ambiti su questi su questi aspetti qui poi ho avuto l'opportunità di di fare approcciare questo sport da molto piccolo e quindi anche diciamo una facilità magari di apprendimento come tutti i bambini che si avvicinano agli sport hanno una capacità maggiore forse di un adulto di 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 essere un po' spugna e di capire intuire anche alcune cose sicuramente il fatto che uno si avvicina molto giovane può essere un grande vantaggio ecco e per tanti anni è stato un po' il mio percorso principale che per tantissimi per per molto ha caratterizzato un po' la mia vita ecco poi ho fatto anche altre scelte perché vivere di questo insomma non è banale e quindi ho fatto anche ho fatto altri percorsi insomma ecco hai detto delle cose molto belle comunque sarebbe cioè se venisse raccontata così la regata credo che avrebbe numeri ben maggiori di quelli che ha perché hai proprio detto cioè la cosa della squadra di quanto è importante la testa di quanto è importante l'umore di come può può fare andare cioè far saltare per aria comunque una barca se ci si pesta i piedi mi sono ritrovato tantissimo in quello che hai detto quindi insomma ti ringrazio molto per questo se qualcuno ha delle domande di carattere tecnico ancora da fare su quello che è stato detto precedentemente se no io direi che possiamo ringraziare Lorenzo e salutarci molto interessante la parte sui controlli pre partenza le valutazioni sul vento e sulla corrente pre partenza e io li ho vissuti come qualcosa un po' di nuovo poi non so se nella testa di Marco sono tutte i check che lui ha fatto nelle regate a cui ho partecipato però insomma erano sono state un bello spunto per per le prossime regate grazie di questo mi ringrazio io spero proprio di aver portato qualche piccolo spunto qualche cosa che magari che poi anche tutto questo per esempio questi spunti pre partenza è vero che se io ho a bordo una persona particolarmente esperta chiaramente ascolterò con più attenzione i suoi contributi perché l'esperienza mette insieme quelle giornate quella conoscenza di quelle giornate che poi alla fine aver incontrato tante giornate di quel tipo magari mi dà un'informazione in più però in realtà sono cose allenabili nel senso che sono delle delle verifiche che magari all'inizio io sbaglio anche cioè io decido che ho in mente una giornata e poi a fine giornata torno in porto e dico guarda io non ci ho capito proprio niente cioè ero convinto che fosse una cosa e invece piano piano però questa consapevolezza di attivarsi ti fa fare delle opzioni ti fa sforzare su che tipo di giornata c'ho davanti se c'ho questa potrei fare questo ecco se c'ho una giornata in Liguria come dicevamo prima è inutile che guardo tanto le barche perché mentre salgo faccio tanta fatica perché il mio problema principale sarà il vento allora metto da parte le barche vediamo se mettendo da parte le barche no irrigatando solo sul vento io davvero faccio un buon risultato o faccio meglio perché a quel punto se le cose funzionano io costruisco una mia esperienza che poi ripeto e cambio leggermente però alimento un percorso se io invece improvviso tutte le volte in questo sport è molto difficile migliorare in questo sport purtroppo non esiste una scuola e su questo in Italia dovremmo lavorare molto perché all'estero è molto più incisivo questo tipo di approccio ma non esiste una scuola che migliora le mie fasi o che mi come dire arricchisce ci sono persone che si mettono a disposizione all'interno delle scuole vela all'interno dei circoli che portano la propria esperienza e l'arricchiscono un po' ma è complesso entrare nelle sfumature che fanno poi possono fare la differenza quindi è importante che noi come dire attiviamo noi stessi dentro un percorso che mi crea delle consapevolezze anche se non sono il più esperto anzi anche se non sono particolarmente riconosciuto come capace ma intanto faccio questo percorso e quindi provo provo poi verifico perché poi la strategia è fatta di verifiche i team di Coppa America in queste settimane soprattutto negli ultimi giorni dove si giocavano un po' il passaggio del turno avevano delle previsioni meteo sul quale hanno fatto delle prove che non hanno assolutamente non sono assolutamente state le condizioni con cui hanno regatato quindi nel senso eppure loro ce l'avranno le strumentazioni per fare una previsione del meteo avranno interrogato i massimi sistemi o i satelliti eppure poi la previsione smentisce la realtà noi faremo i conti con la realtà però costruire pezzettino del percorso e vedere se funziona o meno costruisce la mia consapevolezza questa è la mia esperienza per cui dopo dieci regate dopo dieci giornate io non sarò esattamente quello dell'inizio magari faccio lo stesso risultato ma per motivi differenti perché ho cominciato diciamo così un processo e la prossima volta magari facciamo anche se vi fa piacere una piccola cioè una nota su la modalità di allenamento e la quantità di allenamento per provare diciamo e a vedere un miglioramento però se non la famo troppo lunga la facciamo la prossima volta sì in effetti Lorenzo è questo che io sento a volte che su cui sono carente ma nel senso proprio di immaginare che cosa accadrà e questo è pratica credo oltre che avere più sicurezza sulla teoria è molta pratica non solo in quel campo di regata ma in generale ecco nella gestione nello stare in un equipaggio nel capire il vento immaginare che cosa accadrà a me richiede molto tempo e quindi vuol dire che mi manca pratica almeno io credo esperienza sì sicuramente allora diciamo anticipare il futuro ci avrebbero su tutti i miliardari perché sapremmo che non riescono all'otto no quindi diciamo capire nel dettaglio cosa succederà è molto complesso però diciamo io mi concentrerei su questo aspetto dobbiamo secondo me avere la capacità di rallentare dei processi o dei movimenti che per loro natura sono abbastanza veloci tipo il moto di una barca noi non abbiamo il freno non c'è uno stop con la macchina che quando non capisco io mi fermo noi abbiamo un processo che è in moto e che costantemente come dire andiamo a prevedere cosa accadrà il secondo dopo 5 secondi dopo 10 secondi dopo noi dobbiamo avere la capacità di provare a mentalmente a rallentare questo tempo e ad allungarlo non prevedere cosa accade 5 secondi dopo ma prevedere cosa accade 30 secondi dopo o cosa accade un minuto dopo ad esempio e questo significa non solo fare pratica Cristina Cristina giusto sì sì non solo fare pratica ma avere anche la lucidità di ricordarsi di farlo perché spesso il momento mi toglie non la capacità di farlo ma la lucidità di vederlo cioè non riesco sono preso dalla cosa e quindi non mi proietto nel prossimo futuro cosa che invece io magari avrei anche le capacità di fare guarda ti faccio un esempio rapidissimo quando io mi presento in bodybolina e magari ho l'ultima virata da fare ma è una virata molto vicina la boa quindi non è una virata particolarmente impegnativa è solo una virata che mi permette di girare la boa io arrivo muro a sinistra la boa è molto vicina viro e vado in poppa per dire solitamente nell'ultimo tratto muro a sinistra prima di questa virata ma anche nell'ultimo tratto muro a dritta anche qualora non dovessi virare quasi nessuno almeno per la mia esperienza e vi assicuro che ho regatato anche con persone molto molto brave quasi nessuno si concentra su qual è il lato di poppa migliore sul fatto che in boa strambo o vado dritto su dove è la boa di poppa ma come ne abbiamo girato nemmeno la boa di bolina cioè devo ancora virare e già ma lì è proprio un modo per rallentare e dire siamo nei tempi abbiamo il tempo di cercare la boa di poppa di capire se dopo la virata devo fare qualcosa perché accadrà qualcosa se per esempio durante la bolina il vento è saltato un po' ci sta che nella poppa debba fare una strambata secca sulla boa o pochissimo dopo quindi faccio e quindi lo dico al mio equipaggio ragazzi cioè non lo tiriamo nemmeno sul tangone perché io devo strambare oppure facciamo 3 metri 5 metri 10 metri perché non siamo allenati per strambare secchi sulla boa tiriamo su e strambiamo subito questo è l'obiettivo tirare su spinnaker gonfiare spinnaker strambare subito perché io mi immagino quello che avverrà dopo però anche se so farlo spesso non lo faccio perché non sono lucido perché non riesco a proiettare come dire quello che accadrà nel minuto successivo perché vedo solo i prossimi 10 secondi e lì mi perdo un po' chi lo sa fare fa un grande lavoro è come un incrocio su una barca no? prevedere prima che ci sto dentro se prendo una barca se la prendo che faccio conviene virare o conviene poggiare poi le scelte non è che sono N.000 però un conto è provare a farle con un po' di anticipo e un conto è improvvisarle quindi dire vabbè facciamo quello che capita o poggia se no gli vai addosso ecco grazie molto molto utile molto istruttivo grazie davvero grazie a te grazie Lore davvero è stata una bellissima serata estremamente interessante ci hai dato un sacco di spunti e niente direi che possiamo concludere l'incontro andare a dormire e ci vediamo quindi tra due settimane giusto? se mi siete trovati se vi è piaciuto ci vediamo tra due settimane grazie assolutamente sì grazie Lorenzo davvero grazie buonanotte a tutti ciao buonanotte grazie ancora grazie ancora Lorenzo stavi bene al presto ciao a tutti ciao 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 ciao